Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come impostare lo schermo principale su Windows 11 che ogni tanto per chi si collega un altro monitor a fianco ad un altro e vede che le icone stanno sull'altro monitor sul monitor principale che vorresti usare è tutto a vuoto quindi non c'è niente e anche come posizioni monitor ok, o lo metti davanti a te oppure lo metti a sinistra, a destra come ti piace a te quindi in questo caso in questo nuovo tutorial ti spiego come impostare come schermo principale quindi innanzitutto tasto destro sul desktop, andiamo su impostazioni schermo, ti porterà così su questa pagina e adesso da telefono ti faccio vedere proprio come cambiano così le icone da una parte all'altra e come è imposto così lo schermo principale quindi come puoi vedere se io adesso metto imposta come schermo principale numero 1 tutte le icone sul desktop escono sullo schermo principale e sul secondo non esce proprio nulla quindi se invece vuoi che tutta sta roba sta sul secondo schermo devi cliccare su 2, identificare così lo schermo per capire chi è l'1 e chi è il 2 e fa imposta come schermo principale e abbiamo così impostato come schermo principale il secondo ok? io adesso torno a 1 perché io uso sempre quello principale che sta davanti a me ok? e il secondo che sta a parte e comunque questi due schermi puoi anche trascinarli per esempio se qua ci sono tipo 6 schermi tu puoi anche cliccarci sopra e spostarli e io li metto qua capito? faccio così quindi se questo video ti è stato utilissimo su come impostare lo schermo come impostare lo schermo principale su Windows 11 lascia like, iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao